Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta, è tornato a parlare pubblicamente dopo le dichiarazioni della ballerina sul loro passato. Rizzo ha smentito le accuse di Shaila riguardo alla relazione tossica e ha espresso il suo disappunto per le bugie diffuse dalla ex fidanzata. Durante un'intervista a Radio Radio con Giada Di Miceli, Rizzo ha dichiarato di essere stato fidanzato con Shaila per cinque anni e ha raccontato che la relazione era tranquilla fino a settembre, quando ha scoperto alcune verità scomode. Ha negato categoricamente di aver esercitato violenza psicologica o fisica su di lei, definendo le accuse di Shaila come bugie per ottenere visibilità e attenzione mediatica. Rizzo ha anche rivelato di essere stato tradito più volte da Shaila durante la loro relazione. Sottolineando che il tradimento non riguardava solo rapporti fisici, ma anche flirt con altri uomini. Ha spiegato che la loro storia sarebbe comunque finita, anche se non fosse emerso il suo orientamento sessuale attuale, dichiarandosi gay e confermando di avere un compagno. Infine, Alessandro Rizzo ha espresso il suo dispiacere per le bugie diffuse da Shaila e ha sottolineato la necessità di raccontare la verità dei fatti. Ha augurato tutto il bene a Shaila, ma su una fiascia importante non costruire storie false per ottenere visibilità. La sua intervista ha suscitato scalpore e ha portato alla luce nuovi dettagli sulla relazione.